questa è la spiaggetta di zanzibar di fronte al vera club sunset beach con noi passeggiata passeggiata lunga passeggiata lunga andiamo al faro andiamo al faro dopo il faro dopo il faro vedere la tanta rugga marina delfini squalo pescatori riscatore faregnami e capi di siamo da zanzibarini benvenuti a cuna matata a cunone matatore come l'aragos wakaribishwa zanzibar yetu hakuna matata ee ee chambo chambo wana abarigani nzuri sana ee ee wageni wakaribishwa zanzibar yetu hakuna matata italia uno zanzibar due forse resce forza lecce forse e lecce forza lecce forza lecce sempre forse lecce lecce o la l lecce bravo bravo lecce forza lecce sempre lecce no annaggia lecce bravo lecce non recce lecce forza lecce forza lecce bravissimo forza lecce lecce annaggia da capo di marzo benvenuti nel terzo mondo ai e qui la sa cos'è questa magnoca ah magnoca la mangiamo noi in villaggio in villaggio si può mixare con come si si nella zuppa con zuppa di pesce cocco e quello che c'è la verdura spinaci spinaci all'anima quanti chiamam cicia questa cos'è fruit passion no post a mango mango ah 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 stanno vendendo stanno vendendo a stanno c'è un po' lì non c'è nessuno non vengono nessuno qua con la pioggia forte ho capito apresce solo mangiare solo pesce tutti i giorni mangi che cosa succede poi quando c'è l'inverno cosa succede niente sempre pescare porto a casa base però diventa più problema problema ma non non possiamo aiuto la donna e occhiali la macchina Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Noi anche laviamo la becchieria così. Non è convinta, le ho fatto vedere la foto. Grazie a tutti. Dopo 2 euro, dalle almeno 2 euro. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.